Dopo il successo della giornata d'apertura, i Tanato Port Days sono proseguiti con la mattinata del sabato dedicata ai giovani. Nel primo appuntamento Holland's On Deck si è parlato del mare e della cultura portuale come strumenti di sviluppo e di integrazione, di valorizzazione dei giovani, di riscatto sociale e crescita personale. Ieri abbiamo avuto una fluenza significativa e tutti gli eventi che erano stati programmati hanno avuto un grande successo, un grande riscontro. Siamo soddisfatti soprattutto per la finalità di questi Port Days che è quella di avvicinare la città al porto e soprattutto anche i giovani al porto. Il mio intervento verterà sulla attività di rieducazione e risocializzazione che nell'ambito del procedimento penale minorile viene effettuato dall'autorità giudiziaria minorile con la collaborazione dei servizi sociali territoriali e anche degli enti territoriali. Stiamo ragionando, immaginando con l'autorità portuale una serie di progettazioni e di interventi che servono a creare inclusione e quindi a permettere anche a minori italiani e migranti che raggiungono il porto di Taranto di poter vivere meglio la città. A seguire la grande festa con gli istituti scolastici del territorio ionico per il conferimento dei premi Il mare dei talenti di Taranto e la consegna delle borse di studio erogate dalla fondazione Taranto 25. Un mare di talenti perché l'obiettivo della giornata è andare ad intercettare all'interno del mondo delle scuole il talento quando sta sbocciando.